Buongiorno, oggi è giorno di festa, domenica, vorrei condividere con voi una piccola riflessione che facevo un istante fa, così, quando praticamente sai che passerai tutta la domenica qui, è una piccola registrazione, tanto per guardarmi, come sono tutto, anche stamattina, avete, questo è tutto bello, concetti relativi, allora, devo dirvi, una festa, festa è un giorno o sono momenti che si hanno nel cuore, quotidianità e festa si intrecciano nella stessa giornata ogni giorno, piuttosto così, va bene, comunque, appunto, cosa sarà più facile per voi, cos'è più facile? Vedere il lavoro durante il giorno di festa o vedere la festa durante il giorno di lavoro, vedere i raggi di sole in mezzo a una tempesta o una giornata splendida sul più facile, cos'è più facile, cos'è più facile? Ridere e pignazzare vedendo qualcuno che cade facendosi male o sentire un po' il suo dolore, preoccuparsi per lui, cos'è più più facile? Non lo so, quello che è più facile? Essere nel pieno della felicità, già sentire nell'amarezza nella sua fine, oppure essere immersi nel dolore e avere la speranza di tornare presto alla felicità, cosa è più facile? Non lo so, provate a chiederlo anche a voi, a voi, pure, una cosa, ultima cosa, no, sull'ultima cosa, sono buona domenica, grazie. Grazie a tutti.